È davvero fantastico. Se lo chiamo arriva subito, mi sistema il giardino, vernice e serramenti, esegue riparazioni su impianti elettrici ed idraulici, ridipinge i muri. Anche tu vuoi un uomo così? Chiama il marito a domicilio. 349 120 6039 Servizi a 360 gradi per tutti i lavoretti domestici. Novità? Servizio assistenza malati ed anziani con personale qualificato. Grazie a tutti.